Buongiorno e che poco è l'ingresso del percorso? 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 a prendere il tuo corpo, me sei convinto? E se io adesso prendessi il sopravvento su di te, uomo, se fossi io a comandarti, a dirti cosa fare, a farti ballare o cantare a mio piacimento, potrei sviarti e non te ne accorgeresti, vorrei liberare a tutti i tuoi segreti, dicendo sempre contesto tutto di te e dei tuoi figliari, e conosco a tutti i tuoi libri e le tue paure, se solo volessi, potrei riconoscere tutto questo conoscere, con un pazzo a voi, decideri i tuoi figliari, e chi è lì, potrei, se solo volessi, dominare l'uomo, ma questo diventa solo da voi. Vediamo se sei stato attento e capito quello che hai visto finora, ecco la prima domanda, tocca le risposte o rispondi a voce dicendo A, B, C. Grazie. 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 Questa cosa sarebbe questo oggetto? Una lampada. Ah, una lampada. È morsica? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Io sì, io rido. Io rido di te, piccolo uomo, come Dio, ovunque un colore. Rido perché tu sì, mi hai creato per aiutarti, che tu non sei per l'indievole di me, quindi io, solo perché magari ti senti al sicuro perché ti sbagli dalle due leggi della roba e credi che non avrò mai le capacità per poter apprendere il tuo cuore. E se io adesso prendessi il sopravvento su di te, uomo, se fossi io a comandarti, a dirti cosa fare, a farti ballare o cantare a mio piacimento, potrei spiare e non te ne accorgeresti. Poinci con i provaci. Poinci con i provaci. Poinci con i provaci. facciamo conoscenza vediamo se sei stato attento e capito quello che hai visto finora ecco la prima domanda tocca le risposte o rispondi a voce dicendo a grazie 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 abbiamo visto la mostra Sì, qui si scende, sì. È chiusa? Sì. Dovremmo chiedere anche noi. Faccio un giro di prima, grazie. Ma si può fare che? Io non ho, infatti lo puoi dare la trascosione. E' quella di prima? Siamo più neri. Ah, va bene, ok. E va bene? No, no, va bene, esco fuori. Ma come faccio fare la trascosione? Non posso farla in ritardo? No, pensavo che, mi diceva che c'era un frammento di, come si chiama, elasticità, dopo le 6 e mezzo, perché c'è gente che legge dentro. La tua prima, non so. Non dentro qua. Ah, bene, grazie. Senti, i servizi, i gabinetti, non li ha messi? Sono dopo le scale sulla sinistra. Grazie. 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 Grazie.